C'è stata una stagione straordinaria nei due decenni finali del secolo e del millennio precedente, caratterizzata dalla presenza di forti pensatori, anche sperimentali, di un pensiero olistico forte. Io ho avuto anche l'avventura di dirigere una rivista che usciva in edicolo in quegli anni, intitolata Essere secondo natura, sulla quale scrivevano il professor Preparata, ha scritto il professor del giudice, dove collaborò Jacques Benveniste, quello della memoria dell'acqua, un'altra vittima della censura degli eretici del millennio successivo. E ci sono stati dei pensatori formidabili, appunto, l'avete già citati, pensate a Flansman e Pons, che hanno dimostrato la possibilità che due elettro di metalli, delle azioni particolari, elettrochimiche, si svolgono all'interno, durante un semplice processo elettrolitico, per un processo di fusione fredda, producono più corrente di quante ne venga utilizzate per scindere l'acqua, per esempio. Ci sono stati pensatori come Jacques Benveniste, che hanno studiato la memoria dell'acqua, cioè il fatto che in quei reticoli ipercoerenti, studiati dal professor Preparata e dal professor del giudice, si deposita una memoria, e lui pubblicò quel lavoro su Nature, sulla degranulazione dei basofili, utilizzate semplicemente con acqua memorizzata da una certa agitazione molecolare, che cambiava la configurazione coerente degli ossidrini, che formano tra di loro, come ha spiegato adesso il collega, un reticolo coerente, ma venne perseguitato, era direttore dell'Insermo, uno dei più grandi laboratori di immunologia francese, Jacques Benveniste, ed era amico di Preparata, ed era amico di Del Giudice, conobbe Fleischmann e Pons, venne diverse volte a Torino, ospitato da me, venne perseguitato e cacciato e morì di creppacuore. Lo stesso è accaduto a Fleischmann e Pons, che sono stati emarginati, ma ci sono state altre ricerche straordinarie in quegli anni, per esempio quella sulla cosiddetta trasmutazione degli elementi, legati a un'antica teoria di Kevran, per la quale dentro la materia vivente, tu puoi andare a cercare più azoto o più carbonio di quanto non ce ne fosse all'inizio, perché avvengono delle reazioni nucleari che cambiano la configurazione degli atomi, non delle molecole, all'interno di un processo della vita. Insomma, è stata una stagione straordinaria. Perché è stata soffocata come un bambino nella culla? Perché non era coerente con l'unica coerenza accettata che era quella del profitto. Come spiegava il mio maestro Labori, con il quale incontravamo anche queste persone a Parigi, dove ho lavorato per anni? Dovete ricordare che, diceva Labori, un po' ironizzando, lui che era un biochimico, un farmacologo, io ho campato abbastanza bene perché ho potuto per la grande farmindustria brevettare molecole. Lui brevettava delle molecole, la clorpromazina, per esempio il primo psicofarmaco, la minaprina, il micidiale GABA, l'acido gammitrossibutirico, quella droga dello stupro che per lui utilizzava nelle anestesie. Allora, io vendendo le molecole sono diventato ricco. Però all'epoca c'erano ancora, quelli che facevano le molecole le vendevano alla Big Pharma. Adesso è il contrario. Adesso c'è la Big Pharma che ha preso il controllo di tutto e fa e produce soltanto quello che gli serve, negando tutto il resto. Quindi questa ricerca libera, questa ricerca olistica, questa ricerca basata sulla sfida della complessità, questa ricerca basata sullo studio dei frattali, questa ricerca basata sulla dimensione formale della coerenza della scienza, che è dinamica, che è passionale, che è creativa, che è evolutiva, che è olistica appunto, cioè che studia le cose nell'insieme e nelle loro relazioni e che considera le relazioni tra le cose più importanti delle cose. È stata strangolata come un bambino nella culla, come gli innocenti di Erode. E quindi c'è stato un grandissimo regresso da quei 30 anni agli attuali 20-30 anni di soffocazione della vera scienza. Per esempio, la morte di Fleischmann e Pons e della fusione nucleare fredda era una minaccia per chi lavora invece per altri tipi di energie molto più costose. Strangolare la memoria dell'acqua voleva dire garantire a una dimensione soltanto ponderale della comunicazione tra le cellule, non elettrochimica e direi quantistica, tra molecole soltanto delle molecole brevettabili, come quella dei vaccini, di cui però non si deve neanche conoscere il contenuto. Soffocare gli studi sulla trasmutazione degli elementi voleva dire eliminare il paradigma che dalla tavola di Mendelef non si può uscire. Troppe cose vere sono state negate e strangolate, come adesso dicono delle fake news, allora dicendo che erano cose che forse potevano essere un po' vere, ma dovevano essere ancora dimostrate. E come dice Montesquieu in una sua pagina memorabile, quando viene fatta una nuova scoperta nelle lettere persiane, quando viene fatta una nuova scoperta tutti gridano i soloni non è vero. Poi quando la cosa si afferma nella sua evidenza sotto gli occhi di tutti si dice sì potrebbe essere vero ma deve essere ancora dimostrata e quando la cosa ormai si è affermata perché la gente la utilizza dice sì è vero e così però non è più una novità. E quindi è chiaro che il ricercatore libero, il ricercatore olistico è destinato sempre ad essere perseguitato qualunque cosa faccia. Capite? Quindi questo è quello che è avvenuto. Emilio aveva un vaccino perché a lui non interessava poi il risultato scientifico, il successo. Come non interessava nessuno di questi? Come non interessava il mio maestro Labori? Sapeva già che era così, quindi era invece cercare di rompere il paradigma, andare avanti. Quando io andrei per la prima volta, quando io andrei per la prima volta a nostro professor Montagné e lavorammo insieme anche all'istituto Pasteur con Labori, era appena uscita fuori la faccenda dell'AIDS. Lui mi disse, guardi, dice, caro dottore, io ero un giovane medico, vede questo stabulario dei nostri topi, quindi i nostri ratti? Allora, se questi ratti fossero colpiti da come dicono adesso sull'AIDS, da un virus letale, sessualmente trasmissibile, io dopo due o tre generazioni, quanti topi ho in questo stabulario? E la risposta è ovvio a nessuno, evidentemente. Allora, se gli dicono che l'AIDS è un virus letale, sessualmente trasmissibile, lei sa che in questo momento in Uganda si stima che ci sia un tasso di sieropositività di circa 70%? Benissimo, guardi i dati demografici dell'Uganda, gli ungadesi stanno diminuendo o stanno aumentando? Ed era evidente che stavano aumentando. Allora era chiaro che anche dietro tutta la narrazione dell'AIDS c'era un'altra menzogna, soltanto che capirono che non funzionava abbastanza, nonostante anche tutto il business della Big Pharma su questo. Io con questo non voglio dire che Big Pharma è sempre colpevole, tutti gli altri sono sanno. Dico che soffocare la libera ricerca non finanziata dai commercianti, non finanziata dai mercanti, non finanziata dagli uomini dell'UEF di Davos e i demoni di Davos è stata una grande perdita per l'umanità e ha ragione Fabio, bisogna ripartire di lì, bisogna ripartire da questa libera ricerca olistica basata sulla sfida della complessità, non soffocata nella culla dei demoni della Big Pharma.